Strage di mestre l'ultimo messaggio dell'autista prima dello schianto svela tutto. Lui stava. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Rimani fino all'ultimo, perché abbiamo una domanda per te. Secondo quanto si è appreso nelle ultime ore dai media nazionali, Alberto Rizzotto era un giovane autista, seppur esperto, con ben sette anni di servizio alle spalle. Era una persona molto apprezzata da tutti, e anche i suoi colleghi hanno evidenziato quanto amasse davvero il suo lavoro. Si trattava di una persona sempre gentile e disponibile con chiunque. Dai video delle telecamere di sorveglianza sembra emergere un dettaglio interessante. Le immagini dei filmati che abbiamo visionato mostrano il pullman che si avvicina a una sorta di protezione, quasi simile a una ringhiera, come ha commentato Massimo Fiorese, dirigente della società proprietaria del bus, durante un'intervista al TG1. Fiorese, visibilmente commosso, come molti amici, colleghi e familiari, non riesce a trattenere la sua tristezza per quanto accaduto. Alcuni amici avevano inizialmente sospettato che qualcosa potesse essere successo ad Alberto, dal momento che poco prima dell'incidente aveva condiviso un post sui social in cui menzionava Charlotte, senza ottenere risposta da lei. Alcuni di loro avevano provato a scrivere un commento sotto il post, sospettando che l'incidente potesse essere avvenuto durante il suo turno di lavoro. Tuttavia, l'incidente si era già verificato, e nelle prossime ore si spera di ottenere ulteriori dettagli sulla tragedia avvenuta a Mestre. Questo evento sicuramente farà parlare di sé nelle settimane a venire, e vedremo cosa emergerà dalle indagini in corso sull'incidente. E tu cosa ne pensi? Il guardarail era a norma rispetto ai veicoli che transitano su quella strada? Pensi che con un adeguamento dello stesso si sarebbe potuto evitare questa strage? Scrivilo nei commenti. Ti ringraziamo per aver guardato questo video e se ti è piaciuto ti invitiamo a lasciare un bel mi piace e ad iscriverti al nostro canale. Grazie per aver guardato il nostro canale.